Amo scoprire quel che si nasconde nelle soffitte polverose. Amo dare nuova vita alle vecchie cose, perché non hanno fretta e hanno più storie da raccontare. Ed è per questo che vorrei un posto dove le persone le sappiano ascoltare. Dove un piatto non è solo un piatto, è un tavolo solamente un tavolo. Dove ogni gesto ha un senso, dove il cibo si assapora con il cuore e nella bocca resta il gusto delle belle parole, quelle condivise. Dove ognuno è benvenuto e nessuno è d'impiccio. Dove lo spazio e il tempo smettono di essere convenzioni e tornano ad essere occasioni. Amo sognare a un posto così e amo continuare a farlo.